6.576 casi su 20.829 tamponi processati, tasso di positività al 31,57%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico dell'1 luglio. I casi emersi dal report precedente erano stati 5.134 su 12.041 tamponi con positività al 44,13%. Il totale dei contagi da coronavirus emersi in Puglia sale a 1.212.257, di cui 48.737 attualmente positivi, 1.154.892 guariti e 8.628 deceduti. 6 sono i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 1.932 i casi attivi in più rispetto a ieri, 4.638 i nuovi guariti. Salgono da 314 a 321 i pazienti ricoverati in area non critica. Restano 14 le terapie intensive. Su scala provinciale il dato più alto di giornata è rappresentato dai 1.993 nuovi casi emersi nel Barese. 397.610 il totale dei pazienti registrati nell'area del capoluogo di regione da inizio pandemia. 1.635 sono i nuovi positivi emersi nel Leccese. 241.275 il totale della zona salentina. 848 sono i nuovi contagi registrati nel Foggiano, un dato che porta il totale a 178.377. 793 sono i nuovi casi emersi nel Tarantino. 161.422 è il dato complessivo della zona ionica. Numeri simili infine nel Brindisino e nella Bat, zone nelle quali sono emersi rispettivamente 607.568 nuovi positivi. 112.612 il totale dell'area messapica. 107.380 quello della provincia di Barletta-Andreatrani. 11.406.897 il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.